Nanni Sale, presidente della società Progetto Farfalla di Nuoro, nel fine settimana gli atleti della società sono distinti nel trofeo Italia che si è tenuto a Martina Franca, com'è andata? E' andata benissimo, abbiamo fatto un terzo posto con Maria Daniela Podda nella categoria oltre i 70 kg e un settimo posto con Alessio Porcu nella 36 kg. Il trofeo Italia è il primo dei tre trofei in Italia che determinano poi i migliori atleti nelle svariate categorie. Questo terzo posto ha portato la nostra atleta ad essere terza adesso nella ranking nazionale italiana. Abbiamo coronato un po' i grandi sacrifici che stiamo attraversando in questo progetto di valorizzazione dei nostri ragazzi. Questa è la settima trasferta fuori dalla Sardegna che stiamo facendo. Ne abbiamo fatto sei in Italia e una in Francia a Sanseprien. E piano piano stiamo raccogliendo dei risultati in questi ragazzi che comunque sono discriminati rispetto agli atleti che ci sono in Italia. Proprio per una continuità territoriale che esiste poco perché è difficile fare un biglietto di aereo per poter raggiungere le sedi di queste gare. Quindi dobbiamo sempre viaggiare in nave, molte volte anche con dei passaggi in ponte proprio perché purtroppo i soldi non sempre ci sono per poter affrontare con comodità le nostre trasferte. Il tempo che ci vuole perché comunque prendere un aereo significava arrivare il giorno stesso e poter fare la gara e magari in una giornata sola si rientra a casa. Cosa che noi invece non ci possiamo permettere. Quindi questa cosa insomma implica anche dei giorni persi da scuola ma fa sì che comunque i ragazzi anche dal punto di vista didattico si danno da fare molto di più proprio perché hanno la motivazione di andare a fare queste gare. Stiamo vivendo un'esperienza importante che è di crescita, di crescita per loro, di crescita per l'associazione, anche di crescita per noi che li alleniamo. Perché comunque ci mettiamo a confronto con delle realtà che sono veramente di qualità anche a livello agonistico.